Circa 450.000 euro per la progettazione e la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza idraulica sul burro del Quercio. Un finanziamento importante che si inserisce nell'ambito di un quadro di monitoraggio e progettazione sulla mitigazione del rischio idrogeologico che è stato portato avanti come un obiettivo di mandato fin dall'inizio di questa amministrazione. Un territorio come il nostro, fortemente condizionato dalla presenza del reticolo idrografio principale dell'Arno e del reticolo idrografio minore, deve necessariamente lavorare sulla progettazione per interventi puntuali di mitigazione del rischio idrogeologico che vadano anche a intercettare dei necessari, per interventi osienerosi, fondi sovracomunali finalizzati alla realizzazione di questi interventi. Interventi fondamentali per lo sviluppo di un territorio come il nostro, sia da un punto di vista di messa in sicurezza ma anche per lo sviluppo del territorio.